3, 2, 1 Addio 2016, benvenuto 2017. In alcune parti del mondo il nuovo anno è già iniziato, tra festeggiamenti e buoni propositi. I primi a brindare sono stati gli abitanti delle isole della Polinesia e quelli della Nuova Zelanda, due ore dopo è toccata l'Australia. Grande festa anche nelle strade di Pyongyang, in Corea del Nord. Fuochi d'artificio e uno show fantasmagorico hanno emozionato migliaia di persone a Hong Kong. Grazie a tutti!